Rieccoci e ben ritrovati per questo nuovo appuntamento con Spazio Notizia che apriamo Parlando di cronaca, partendo da Caltanissetta andiamo a vedere un bilancio delle attività svolte dalla Polizia di Stato nel corso del mese di ottobre Sono ben 52 le persone denunciate per vari reati, sono stati attivati anche 12 codici rossi, ma vediamo tutti i dettagli nel servizio I poliziotti della sezione volanti hanno denunciato alla locale procura della Repubblica un trentenne per tentata truffa aggravata L'uomo è stato sorpreso da un funzionario della motorizzazione civile con degli auricolari mentre svolgeva la prova d'esami per il conseguimento della patente di guida Ai poliziotti il trentenne ha riferito che durante l'esame riceveva le risposte esatte attraverso gli auricolari collegati a uno smartphone Nello scorso mese di ottobre gli agenti dell'ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico, sezione volanti, nel corso dei servizi di controllo del territorio eseguiti nel capoluogo hanno denunciato 52 persone all'autorità giudiziaria tra i reati maggiormente commessi, lesioni dolose, percosse, minacce, violenza sessuale, furto, ricettazione, truffa, frode informatica, danneggiamento e altro Nel periodo in esame sono state controllate 2414 persone e 819 veicoli Nella sala operativa della questura di Caltanissetta sono pervenute 906 richieste di intervento, 180 delle quali per soccorso pubblico Sono stati attivati 12 codici rossi per maltrattamenti in famiglia, atti persecutori e altri reati afferenti alla violenza di genere Sono 73 invece le contravvenzioni al codice della strada elevate nei confronti di automobilisti tra le infrazioni più ricorrenti, la mancata copertura assicurativa e la revisione dei mezzi Sono infine 13 le contestazioni amministrative accertate nei confronti di assuntori di droghe con il contestuale sequestro di sostanze stupefacenti o psicotrope illegali Sono 9 invece le persone denunciate dai carabinieri a Mazzara del Vallo Svariati i reati, ad esempio furto di olive e poi infrazioni al codice della strada Ma non sono, vediamo il servizio I carabinieri della compagnia di Mazzara del Vallo hanno denunciato negli ultimi giorni 9 persone per diverse tipologie di reati commessi Nell'ambito della più ampia campagna di controlli all'attività olearia nella provincia i militari dell'arma hanno sottoposto a controllo diversi soggetti intenti a raccogliere olive in terreni della zona All'esito dell'attività, tra tutte le persone che regolarmente svolgevano la raccolta sono stati denunciati due maggiorenni e due minorenni per furto in quanto stavano asportando le olive da un terreno non di loro proprietà Durante i controlli eseguiti per garantire il rispetto del codice della strada oltre a un soggetto straniero sorpreso alla guida dell'auto senza patente poiché era evocata sono state denunciate due persone che ad esito di perquisizione sono state trovate in possesso di coltelli di genere vietato oltre a modiche quantità di crack ed eroina A un posto di blocco i carabinieri inoltre hanno fermato un 41enne a bordo di un ciclomotore risultato oggetto di furto denunciandolo per ricettazione Altro intervento dei militari, su segnalazione di un cittadino ha portato alla denuncia di un tunisino senza fissa dimora colto in flagranza dopo che si era introdotto abusivamente all'interno del domicilio del richiedente Parliamo adesso di una truffa sui finanziamenti europei in ambito agricolo La notizia arriva da Capodorlando nel Messinese dove sono stati sequestrati beni per circa 97 mila euro a un imprenditore che è stato anche denunciato ma per tutti i dettagli vediamo il servizio I finanzieri del comando provinciale di Messina a seguito di un'indagine coordinata dalla procura europea di Palermo hanno denunciato un imprenditore ritenuto responsabile dell'indebita percezione di finanziamenti comunitari nell'ambito della politica agricola comune ed eseguito un decreto di sequestro preventivo ai fini della confisca per circa 97 mila euro L'attività di polizia economico-finanziaria, eseguita dalle fiamme gialle della tenenza di Capodorlando ha fatto scoprire una truffa da parte del titolare di una ditta agricola in pregiudizio del Fondo Europeo Agricolo di Garanzia e del Fondo Europeo Agricolo Sviluppo Rurale L'uomo durante le annate 2017-2018 aveva fatto introito di risorse comunitarie che non spettavano per un importo di circa 97 mila euro, oggi sottoposti a sequestro Inoltre il titolare dell'azienda aveva indicato all'ente pagatore, precisamente alla GEA il titolo di conduzione di particelle catastali di terreni agricoli consistente in falsi contratti di affitto di fondi rustici provenienti da persone terze ed estrane alla dichiarata concessione in affitto Il titolare della ditta agricola, in considerazione dei gravi elementi indiziali raccolti è stato deferito all'autorità giudiziaria per il reato di truffa aggravata ai danni dello Stato Da qua l'esecuzione del provvedimento di misura cautelare reale delle somme di denaro e dei beni immobili corrispondente a un illecito provento delle ravvisate responsabilità penali Una donna di 51 anni è stata invece arrestata dagli agenti della Polizia di Stato a Catania I poliziotti infatti, nell'apportamento della donna, hanno rinvenuto ben 13 kg di marijuana sostanza ovviamente pronta per essere spacciata La Polizia di Stato ha tratto in arresto una donna di 51 anni per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente Durante mirate attività di contrasto allo smercio di droga nel quartiere San Cristoforo personale della squadra mobile ha realizzato servizi di appostamento per monitorare alcune abitazioni ritenute possibili luoghi di spaccio Tra queste, gli agenti hanno posto particolare attenzione su un'abitazione ubicata nella zona nota come Traforo tra via Belfiore e via Testulla, dove nei giorni precedenti erano stati segnalati movimenti sospetti Durante l'appostamento i poliziotti della squadra mobile hanno notato un andi rivieni sospetto di persone nell'immobile, alcune delle quali portavano imballi di grosse dimensioni all'interno di sacchi neri Gli agenti hanno quindi deciso di fare irruzione nell'abitazione dove hanno trovato la proprietaria dell'appartamento, alla cui presenza è stata eseguita una perquisizione domiciliare All'interno di una botola ricavata nel sottotetto dell'appartamento sono stati rinvenuti tre sacchi neri con all'interno 13 kg di marijuana del tipo amnesia sostanza che è stata ovviamente sequestrata La donna, visti i gravi elementi di colpevolezza raccolti, è stata arrestata in flagranza di reato per detenzione ai fini di spaccio di stupefacente Cambiamo decisamente argomento, ci spostiamo a Giardini Naxos dove è tutto pronto per un evento importante, il Naxos Street Food Fest Abbiamo intervistato l'assessore Ferdinando Croce che ci ha parlato di questo evento e ci ha parlato anche di un cambio alla viabilità proprio per favorire l'organizzazione Ebbene, queste modifiche alla viabilità hanno creato un certo malcontento nei commercianti della zona Sentiamo Mauro Romano Maurizio Donato dell'Associazione Commercianti Dove si sarebbe potuto effettuare questa manifestazione piuttosto che creare una sorta di chiusura totale da parte delle attività commerciali che si trovano sul lungomare? Intanto buongiorno a tutti E niente, come era preventivato all'inizio che dovevano farlo al porto forse sarebbe stato meglio che lo facevano al porto almeno così non creavano questo disagio che hanno chiuso la strada per 11 giorni parlando dal 5 novembre fino al 16 di novembre per una manifestazione che ben venga per carità che dura, sien o tre giorni fine settimana rossa hanno chiuso tutto il lungomare hanno, tra virgolette, costretto molti commercianti a chiudere le proprie attività in questi giorni perché non essendoci passaggio di macchine, di persone non abbiamo vendita quindi, non lo so, forse sarebbe stato meglio al porto ecco, si è creato una sorta di piccolo lockdown a Giardini Anzio Sì, se ci mettiamo qua e ci guardiamo a destra e a sinistra sembra di essere tornati un paio di anni fa quando eravamo costretti a stare chiusi perché c'era il famosissimo Covid che ci ha condizionati Vuole dare dei consigli all'amministrazione per il futuro magari? Io, i consigli che voglio dare io e che sono molti e che lo pensano anche molte altre persone è quello di cercare di organizzare le cose in modo meglio soprattutto per i residenti e per noi commercianti perché alla fine noi siamo il fulcro attivo del paese Parliamo di calcio Oggi le siciliane in campo partiamo dal Palermo impegnato nel campionato di Serie B al Barbera contro il Brescia un Palermo che deve provare a riscattarsi dopo le ultime due sconfitte purtroppo che hanno un po' complicato i piani di Mr. Corini ma siamo ancora a inizio stagione e proprio Mr. Corini in vista di questa importante partita ha parlato in conferenza stampa sentiamo le sue parole La partita con l'Eco la squadra l'ha fatta la prestazione c'è stata è inutile che vado a dirvi quello che vi ho già detto rispetto all'Eco e a tutto quello che abbiamo fatto e purtroppo non siamo riusciti a far gol e abbiamo perso sicuramente il palo di Casami dopo due minuti quello che ha lasciato la partita con l'Eco ha fatto sì che i primi 25 minuti l'ho già detto nella conferenza post-gara la squadra sia stata un pelino nervosa abbia subito un po' l'iniziativa della Sampdoria poi per me ci siamo riequilibrati nella seconda parte del secondo tempo abbiamo avuto le occasioni per fare gol con Ceccaroni con Insì e un'altra palla di Lucioni che per poco non riesce a prendere Brunori abbiamo preso il calcio di rigore negli ultimi minuti proprio del primo tempo dunque la squadra c'è stata e ha combattuto fino alla fine dunque c'è solo il rammarico di venire da due sconfitte e quello sicuramente fa male c'è la valutazione che si fa dopo ogni gara di quello che ha funzionato e quello che non ha funzionato e di conseguenza non vado in senso assoluto c'è da affrontare i vari momenti i campionati ne hai visti tanti non penso che hai visto sempre il Palermo vincere ogni partita ci sono momenti dove perdi anche in maniera immeritata a volte meritata la capacità di reagire e stare dentro le difficoltà con coraggio con forza e con unione io penso che nella partita con lo Spezia la squadra ha combattuto su tutto una squadra molto fisica con l'eco è vero che su un campo aperto loro sono ripartiti ma la squadra ha tenuto dunque c'è anche un concetto forse di inerzia psicologica soprattutto faccio riferimento ai primi 25 minuti di Genova io penso e anche i dati su cui lavoriamo quotidianamente certi fanno che la squadra sta bene lavora combatte a volte ci sono attitudini ci sono momenti dunque non darei una connotazione dal punto di vista atletico ai primi tempi se non nel fatto che sia con lo Spezia che con l'eco che con la Sampa abbiamo preso gol che è il contrario di quello che avevamo fatto fino alle partite precedenti la squadra lavora con grande attenzione su tutto non c'è un problema atletico lo tolgo proprio dal tavolo non esiste c'è un momento delicato dove giustamente quando perdi si fanno tante valutazioni ognuno giustamente fa le proprie devalutazioni con qualcuno posso concordare con alcune non posso concordare dunque su questo sono sicuro se non al fatto che dobbiamo recuperare la condizione su alcuni giocatori che stanno rientrando gli infortuni e faccio riferimento a Colibalia di Mariano che hanno fatto due allenamenti completi con noi dunque li abbiamo recuperati in campo oggi anche il Catania in questo caso in Coppa Italia Coppa Italia di Serie C in vista della partita ha parlato mister Zeoli che sta guidando il gruppo rossazzurro in attesa di capire quale sarà il nuovo allenatore il sostituto del tecnico Tabbiani che è stato esonerato nei giorni scorsi sentiamo le parole di Zeoli in vista della gara contro il Picerno visto un gruppo voglioso di dimostrare le proprie qualità perché questa comunque è una squadra una squadra forte che ho avuto un modo di apprezzare anche durante gli allenamenti quando mister Tabbiani mi chiamava per fare delle contrapposizioni con i ragazzi della primavera sono fiducioso e ho cercato di lavorare soprattutto sulla testa dei ragazzi al tifoso in questo momento vuole vedere alcune cose e dunque ho cercato di mandare quei messaggi ai ragazzi perché poi il pubblico di Catania ti sostiene ti sta vicino e basta poco per portartelo dalla tua parte io credo che i ragazzi sono consapevoli che qualcosa possono fare ancora di più e devono fare qualcosa di più anche affrontando questi momenti poi alla lunga diventano anche più forti davanti a qualsiasi cosa il Picerno personalmente nonostante uscito sconfitto è stata la squadra che mi ha fatto la migliore impressione qua al Massimino abbiamo fatto alcune situazioni tattiche sia in fase di possesso e non possesso ho visto tantissima disponibilità e domani mi aspetto comunque sia una compattezza di squadra nei momenti difficili perché ci sarà nei momenti difficili già me le immagino rispettiamo rispettiamo la squadra ben allenata con dei principi di gioco ben visibili e lo dice anche la classifica siamo pronti perché comunque la Coppa Italia è una partita e a Catania non è permesso neanche perdere un amichevole ci fermiamo qui ma ci ritroviamo più tardi per una nuova edizione di Spazio Notizia di Spazio Notizia